signore dio tu che ci hai dato tutto donaci la pace la pace del riposo la pace del sabato la pace senza tramonto tutta questa stupenda armonia di cose assai buone una volta concluso il suo tempo è destinata a passare esse ebbero un mattino e una sera ma il settimo giorno è senza tramonto e non ha sera tu l'hai santificato per farlo durare in eterno il riposo che prendesti al settimo giorno una volta compiute le tue opere buone assai pur rimanendo tu in completo riposo ci dice per mezzo del tuo libro che anche noi dopo aver compiuto le nostre opere buone assai per tua generosità riposeremo in te nel sabato della vita eterna ed anche allora tu riposerai in noi come ora tu operi in noi e quel tuo riposo sarà per noi come per noi sono queste opere buone tu però signore sempre operi e sempre riposi tu non vedi nel tempo tu non ti muovi nel tempo tu non riposi nel tempo e tuttavia sei tu che ci fai vedere nel tempo e crei il tempo stesso e crei il riposo dopo il tempo noi dunque vediamo la tua creazione perché esiste ma essa esiste perché tu la vedi noi vediamo con i sensi che questa esiste e con la riflessione che è buona tu invece la vedesti fatta quando e dove vedesti che doveva essere fatta noi ora siamo spinti a fare il bene dopo che il nostro cuore concepì questa cosa dal tuo spirito mentre prima eravamo spinti a fare il male e ad abbandonarti ma tu dio completamente buono non cessasti mai di fare il bene alcune nostre opere possono essere buone certamente grazie a te ma non non eterni dopo di esse abbiamo la speranza del riposo nella tua grandiosa santità tu però bene che non ha bisogno di nessun altro bene tu riposi perennemente poiché tu stesso sei il tuo riposo quale uomo mai potrà far capire questo ad un altro uomo quale angelo ad un altro angelo quale angelo ad un uomo per saperlo dobbiamo chiedere a te in te dobbiamo cercare la risposta alla tua porta dobbiamo bussare così ci sarà dato così troveremo così ci sarà aperto così sia